Salve a tutti, vorrei ringraziare Aquaceas per questo riconoscimento, un riconoscimento che comunque sarebbe da dividere in due perché è un progetto che abbiamo realizzato a quattro mani, un progetto che è partito un paio di anni fa con la consulenza anche di Aquaceas che abbiamo portato avanti assieme, scegliendo questa modalità di collaborazione e di ricerca perché in effetti era un tipo di integrazione e di sviluppo che ancora non era stato fatto, non certamente a questo livello e non volevamo un prodotto finito ma volevamo un ambiente, un framework che ci consentisse poi in autonomia di continuare a svilupparlo perché il loro flow del nostro tipo di lavoro non è mai uguale, ogni edificio che noi realizziamo è un edificio prototipale quindi non era mai ripetuto nel futuro, hanno esigenze specifiche e il nostro sistema deve essere in grado di adattarsi oppure deve essere sufficientemente flessibile per consentire a noi di adattarci. Abbiamo sviluppato questa cosa ormai tre anni fa, il sistema è pienamente funzionante, siamo molto contenti e per questo ringraziamo anche Aquaceas, nel corno di Pietro, nel corno di Paolo, nel corno di Usvaldo che hanno sofferto con noi in questi mesi.